Se è vero che il vaccino sta arrivando, allora possiamo farcela Dobbiamo solo resistere, se è vero che il vaccino sta arrivando, allora noi dobbiamo solo resistere E tenere duro, e tenere duro, e tenere duro, fino a quando arriverà E tenere duro, e tenere duro, e tenere duro Fino a quando arriverà il vaccino Grazie 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 Grazie